MicaLor MicaLor bleibtando con l'aronautica, ferroviario e l'industria del bianco dove vi sono delle problematiche di difficile ponderabilità Attraverso un intenso lavoro di R plus D simulazioni di applicabilità e rendimento MicaLor allarga costantemente il proprio programma di dati specifici La nostra sensibilità allo studio di richieste ingegneristiche concrete permette di rispondere favorevolmente a tutte le necessità dentro un mercato tecnologico in continua evoluzione. Questa criticità legata ad altre esigenze che possono sorgere fa sì che noi si faccia un controllo rigoroso e un monitoraggio accurato di tutte le fasi di produzione, di maniera che il prodotto, una volta finito, possa essere montato in modo efficace, rapido ed agevole. In questo modo, pezzo dopo pezzo, dato dopo dato, siamo riusciti a posizionarci come ditta di riferimento in espansione continua. In possesso di un mercato di oltre 110 paesi nel mondo. La capacità di risposta e servizio al cliente ci contraddistingue. Ciò fa sì che la contribuzione di piccoli particolari renda possibili grandi momenti.